Michele Pazienza e il suo staff guardano anche al settore giovanile. Occhio lungo pure sulle formazioni della JUT che come i grandi stanno vivendo un momento magico. Per la trasferta di Brindisi è stato convocato in prima squadra Luca Pizzella di ruolo portiere, l'estremo difensore gioca per l'Under 17 di Gigi Molino e spesso è stato già chiamato in primavera da Raffaele Biancolino nonostante sia ancora un 2007. Ma non solo, il fratello minore di Antonio, di professione e portiere anche lui, terzo guardiano dei pali bianco-verdi alle spalle di Simone Ghidotti e Pasquale Pane. Luca, 16 anni, nell'ultimo match contro i Pugliesi ha sostituito proprio il fratello in lista in quanto quest'ultimo è rimasto a casa perché ha influenzato una dinastia di numero uno con il DNA a forma di Guantoni. Antonio, 22 anni, è la sua ottava stagione in maglia verde. Dopo due anni di settore giovanile in Serie B è rimasto in Irpinia anche nella ripartenza tra i dilettanti. La scorsa estate, dopo aver rinunciato a Valerio Boffelli del Napoli, l'area tecnica con a capo Giorgio Perinetti ha deciso di richiamare il numero uno di San Gennaro Vesuviano che è subito corso in ritiro a Palena per reaggregarsi ai bianco-verdi. Due brevi parentesi tra Nocerina e Fulgoro Caratese in Serie D e poi la maglia dei lupi praticamente tatuata sulla pelle. Tre apparizioni in D nel 2018-19 e poi tanta professionalità al servizio dell'Avellino. Senza mai lamentarsi ma cercando di prendere il meglio dai vari compagni di reparto che si sono susseguiti nelle stagioni.